ciao a tutti amici fiusini come state? spero tutto 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 bene oggi andremo a fare un super mon sound ASMR con questi lampi di raggi di luce che vi auguro un buon relax è vero Sì Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.